Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su Mi piace e iscriviti al nostro canale. Nell'aria si respira un'atmosfera sospesa tra Alessandra Amoroso e il suo compagno Valerio Pastore. Una love story ufficializzata solo due mesi fa sembra già aver raggiunto una fase critica, e la cantante, senza mezzi termini, ha voluto farlo sapere ai suoi fan. Attraverso enigmatiche stories, la talentosa artista e ex allieva di amici ha fatto capire a tutti di trovarsi in un momento intricato della sua vita. Le difficoltà che sta affrontando Alessandra, se siano di natura professionale o personale, al momento rimangono a volte nel mistero. Tuttavia, il passo da interpretare quelle citazioni strappalacrime come dediche rivolte a una persona particolare, attualmente molto vicina alla cantante, sembra breve. Con ogni probabilità, quelle parole sono indirizzate a Valerio Pastore. Cosa ha fatto il giovane e affascinante 28enne per fare innervosire così profondamente la cantante Salentina? Chissà. La presunta crisi e gli indizi social hanno alimentato ulteriormente le speculazioni. Il fatto che Alessandra Amoroso non abbia mai condiviso una foto con il suo compagno ha sollevato alcune sopracciglia tra i suoi seguaci. Tuttavia, va riconosciuto che queste sono scelte personali, e finora la cantante ha dimostrato di attribuire grande importanza alla sua privacy, sia nella sfera personale che sentimentale. Ma è stata la pubblicazione di due stories nella mattina del 24 luglio a far scattare l'allarme. Le frecciatine apparentemente evidenti non sono passate inosservate, regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza, recita la prima citazione. Si tratta di un frammento di saggezza di Oscar Wilde, presente nel calendario filosofico del giorno. A seguire, una citazione di Joe Evan che suona così. Mi diceva che non sono gli altri a spegnere le mie speranze, ma io che ho affidato l'interruttore della mia luce a mani incapaci di illuminare. Nonna mi diceva che non sono loro che impediscono ai miei sogni di realizzarsi, ma io che frequento troppo gli incubi degli altri. Cosa voleva trasmettere Alessandra Amoroso con queste stories criptiche? Al momento, è impossibile saperlo con certezza, ma è probabile che quelle parole non fossero rivolte ai suoi fan, che hanno però compreso perfettamente il messaggio lanciato dall'artista. Valerio Pastore, il nuovo fidanzato della cantante, è un talentuoso tecnico del suono di origini campane, più giovane di lei di ben otto anni. La sua vita si è sempre svolta o levano sul Tusciano, una pittoresca cittadina nella provincia di Salerno, ma è nato a Eboli. Dalle informazioni tratte dal suo profilo Instagram, emerge che il giovane ha già lavorato a numerosi concerti, ed è probabile che sia proprio in uno di questi contesti che ha incontrato l'affascinante Alessandra. In questa fase incerta, il futuro della loro relazione rimane avvolto nell'incertezza, e i fan della cantante sono in attesa di scoprire cosa riserverà il destino a questa coppia affascinante e controversa. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.